Gli Stati Uniti in Siria sono tornati al ruolo da protagonista in uno scacchiere dal quale si erano un po' defilati, ma per evitare un'escalation militare si deve riporre la diplomazia al centro del gioco. Lo dice Angelino Alfano, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolgendo la sua informativa sulla situazione in Siria nell'Aula del Senato. Con la riunione straordinaria, convocata ieri dal G7 allargato ai paesi del Golfo, Turchia e Giordania, è la prima volta che il G7 esteri si allarga a paesi non membri su un tema come la Siria, dice Alfano. Iniziativa che abbiamo voluto prendere nella consapevolezza che la risposta motivata e comprensibile degli USA all'uso di armi chimiche in Siria apra una finestra di opportunità da cogliere per perseguire la soluzione. Il 22 aprile, in occasione dell'Heart Day, alle 19 a Roma sulla terrazza del Pincio, si apre il concerto per la terra, appuntamento che vedrà artisti italiani e internazionali alternarsi sul palco per testimoniare con la loro musica l'importanza della difesa dell'ambiente. Quest'anno sul palco ci saranno Noemi, Sergio Silvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. L'edizione di quest'anno, intitolata Over the Wall, Mecenati della Bellezza, sarà presentata da Fabrizio Frizzi e saranno presenti il comico Antonio Mezzancella e alcuni testimoni all'eccezione del mondo della cultura e dello spettacolo. L'evento è organizzato da Earth Day Italia insieme a Urban Vision ed è come sempre ad ingresso gratuito. Gordon Ramsay ha le idee ben chiare sull'educazione dei suoi figli. Meghan, 18 anni, gemelli Ollie e Jack di 17 e Matilda di 15 non avranno in eredità nessuno dei 160 milioni di dollari che compongono il patrimonio dello chef. Un modo di fare che potrebbe sembrare troppo egoista, ma che non lo è. Non voglio viziarli, ha detto Ramsay. L'unica eccezione, concordata con la moglie Tana, è un 25% di deposito per un appartamento, ma non l'intera cifra. I piccoli Ramsay, così, devono guadagnarsi da vivere ogni giorno, ottenendo solo piccoli aiuti. Meghan fa la babysitter tre volte alla settimana, Ollie lavora part-time come commessa, Jack vuole arrolarsi nei Marine e solo Matilda, la più piccola, è autorizzata a entrare in cucina. Meghan è l'università e ha un budget settimanale di 100 sterline, gli altri hanno circa 50 sterline a settimana. Devono pagarsi le ricariche dei cellulari e i biglietti dell'autobus, perché prima dai loro la responsabilità di risparmiare per comprarsi scarpe o jeans e meglio è. A Firenze è arrivata una cabina telefonica particolare, si chiama CityLink ed è stata realizzata da Tim ed Ericsson, è la cabina del futuro, un parallelepipedo di oltre due metri di altezza che va ben oltre le semplici chiamate. CityLink ha uno schermo touchscreen con cui è possibile navigare gratuitamente in forma limitata, ottenendo informazioni e servizi di pubblica utilità. Si può entrare nel sito del Comune di Firenze, avere informazioni sui taxi e sui trasporti pubblici, conoscere in tempo reale gli eventi che si svolgono in città. Le chiamate al contact center del Comune o quelle per prenotare un taxi sono gratis. Non solo, è possibile anche usare i social pubblicando in tempo reale messaggi e tweet. In ultimo, CityLink dà anche la possibilità di ricaricare la batteria del proprio cellulare grazie ad apposite prese per l'alimentazione elettrica. Semplicemente fantastica, la notte che vive la Juventus è direttamente proporzionale alla partita giocata contro Messi & Co. Tre gol ed una supremazia che non ammettono repliche, su tutti Di Bala, autore di una dirompente doppietta. La terza marcatura è a firma Chiellini, che si riscatta dopo un periodo complicato. La Juve gioca forte, corre, soffre e quando può picchia duro. Mercoledì prossimo il ritorno al Camp Nou. È già scattata la retorica della remontada, la Juve dovrà affidarsi solo di se stessa e giocare da Juventus, perché i catalani useranno tutte le armi a loro disposizione. Allegri però non è Emery e la Juventus non è il Paris Saint Germain. E questo non è cosa da poco. Primo comandamento, non sentirsi né arrivati tantomeno qualificati.